Tantissime cose, prima di tutto il gioco di squadra e il rispetto delle regole basic, nel senso che uno spogliatoio ti fa crescere e maturare più che ogni cosa al mondo. Io ritengo che nel business sei sia come nello sport, è vero che tu nel business combatti contro te stesso, quindi non hai una gara contro un avversario, l'avversario sei tu stesso, come lo vedi nel VPN, però la cultura che ti insegna il calcio, io ho giocato a un livello veramente basso, quindi non posso dire di essere stato in serie A, ma le leggi dello spogliatoio sono cose che ti servono proprio nel mondo e servono secondo me a tutti, cioè io veramente suggerisco a tutti i genitori di mandare i propri figli a fare sport, meglio sei di squadra, perché uno sport di squadra tu impari a rispettare lo spogliatoio, rispettare quello più grande, rispettare l'allenatore, rispettare certe dinamiche di gioco, anche se non sei d'accordo, comunque sul campo tutti insieme avete lo stesso obiettivo nel business uguale. Se tu hai dei colleghi che non ti sono simpaticissime, ma in quel momento in ufficio tu hai bisogno del tuo collega, come il collega ha bisogno di te per arrivare allo stesso obiettivo, fare gol, segnare, vincere insieme e portare a casa del trofeo, che è un salario migliore, dei bonus migliori, dei risultati migliori, un ufficio migliore, quindi il calcio secondo me, a me personalmente ha insegnato molto e molto spesso lo vedo che in alcuni dei collaboratori che ho avuto in passato è mancato questa cosa, tanti individualisti che giocavano a tennis ma non erano bravi a giocare calcio. Grazie. 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 Grazie.